Opportunità di investimenti e di sviluppo in Turchia. Presso la sede di Confindustria Bari, un incontro faccia a faccia con i rappresentanti delle piccole e medie imprese del territorio alla presenza degli esponenti dell'Ambasciata Turca in Italia, del Consolato Onorario e dei rappresentanti dell'ISPAT, l'agenzia statale turca che offre servizi di supporto e promozione alle imprese. Focus sui settori farmaceutico, energetico e agroalimentare, settori nei quali l'imprenditoria pugliese può sviluppare nuovi mercati. Cerchiamo di presentare le opportunità di investimenti in Turchia e in questo quadro abbiamo scelto Bari perché è la capitale della regione di Puglia e abbiamo voluto informare anche gli investitori in questa zona dell'opportunità di investimento in Turchia. Dall'automotive, dalle infrastrutture, il settore agroalimentare per esempio, per la regione è importante, l'energia rinnovabile. Quindi io direi che ci sono le opportunità in quasi tutti i settori per gli investitori in Turchia e come l'agenzia ISFAT noi supportiamo gli investitori che scelgono la Turchia dall'inizio fino alla fine dei loro investimenti in Turchia. Provvediamo tutti i supporti necessari. Abbiamo voluto ospitare l'agenzia degli investimenti governativa del primo ministro turco proprio per dare un segnale alla casa degli imprenditori, perché parliamo qui in Confindustria, Confindustria è la casa degli imprenditori, per dare un segnale ai nostri colleghi, ai nostri amici di vicinanza alla Turchia, Turchia che è una popolazione di 75 milioni di abitanti, Turchia che ha un ottimo rapporto con la federazione russa, con il Medio Oriente, Turchia che è un ponte verso questi mercati, quindi Turchia che è un'opportunità, soprattutto in questo momento, dico soprattutto in questo momento perché da Bari abbiamo tre voli settimanali da Bari a Istanbul e ovunque ci siano voli diretti è importante sviluppare i mercati.